salve a tutti amici e benvenuti ancora una volta sul mondo di kree oggi vi faccio un breve video in una location come vedete improvvisata ovvero la mia macchina ma banda le ciance perché oggi vi voglio parlare di una serie anime che ho scoperto su netflix all'improvviso era una serata in cui mi annoiavo un po e sono andata su netflix a scorrere un po che cosa il sito mi proponeva ed ho trovato trese detective delle tenebre appunto come vi ripeto non conoscevo assolutamente nulla di questa serie e quindi ho guardato un po il trailer e mi sono subito interessata perché è una serie tv una unanime di cui è disponibile su netflix soltanto la prima stagione ma penso che avrà molto successo quindi secondo me arriveranno presto anche le prossime stagioni l'unica pecca che ha è che è una stagione molto breve infatti ho visto tutti i sei gli episodi in un'unica sera oltretutto durano mezz'ora l'uno quindi come potete immaginare si fa molto molto presto a terminarla e quindi appunto è stata una vera e propria sorpresa perché è la storia di questo detective delle tenebre di questa ragazzo ovvero alessa alexandra trese che ha dei poteri particolari in realtà la sua famiglia appunto la famiglia trese eccole è quella che diciamo aiuta a mantenere l'equilibrio tra inferi e appunto mondo umano alexandra quindi si ritrova spesso a collaborare con la polizia locale in particolar modo con guerrero che per lei è sì un collaboratore ma anche un amico una persona cara e quindi lei aiuta a appunto svolgere queste indagini che hanno del del sovrannaturale infatti nei vari episodi ci sono tante figure come i fantasmi come anche le divinità che ho scoperto essere divinità poi filippine ed è un crescendo di emozioni è una serie appunto molto molto appassionante affascinante e misteriosa e è un sacco cruenta un sacco sanguinosa voi se mi conoscete un po sapete che questo è proprio il mio genere infatti l'ho divorata e non vedo l'ora di poter procedere perché comunque il finale è un finale di quelli che ti fanno rimanere con il fiato sospeso ovviamente non possa andare nei dettagli perché sarebbe spoiler e io odio lo spoiler però vi dico che mi è piaciuta tantissimo e che secondo me dovete tutti provare se ovviamente amate il genere a vedere almeno il primo episodio perché io appunto mi sono innamorata già dal primo episodio e secondo me è una serie tv molto molto valida per una vera chicca per gli appassionati dell'horror e comunque del sovrannaturale alexandra stessa alexandra trese è uno di quei personaggi che io posso amare perché è diventata infatti in una sera il uno dei miei personaggi femminili preferiti in assoluto perché è un'eroina una guerriera coraggiosa astuta e con una forza immensa nella sua anima e ci sono anche altri vari personaggi insomma ci sono due fratelli gemelli che sono le sue diciamo guardie del corpo e i suoi collaboratori e la aiutano e la proteggono anche se lei a dire la verità non ha affatto bisogno di essere protetta perché se la cava più che bene con il suo pugnale un pugnale che gli è stato donato dalla madre la madre che purtroppo è venuta a mancare e mi è piaciuto perché nel corso della serie conosciamo anche un pochino al passato di alexandra grazie proprio dei flashback in bianco e nero che ci aiutano appunto ci riempiono alcune piccole lacune e che ci fanno vedere un'alexandra da bambina e il suo approccio a quello che è appunto il mondo degli inferi perché come vi ho detto prima alexandra è una specie di custode una specie di paladina di quello che è l'equilibrio tra inferi e mondo umano perché tutto questo si va a creare? per il semplice fatto che alcune alleanze alcuni patti vanno a sgretolarsi e sarà lei a dover quindi combattere per far sì che tutto ritorni come prima nel corso della serie tv troviamo appunto varie ed eventuali creature come i vampiri come i lupi come i fantasmi ma anche appunto divinità filippine come dicevo prima ed è stato interessante conoscere anche queste divinità visto che io per esempio delle divinità filippine non so nulla ed è stato quindi molto molto interessante è anche vero che si va a scavare ancora di più in quella che è la vita e il passato e quindi i segreti di alexandra nell'ultima puntata ovvero nella sesta puntata perché sebbene le altre cinque puntate abbiano dei flashback continui che ci riportano indietro nel tempo il vero e proprio succo della storia la veniamo a scoprire solo nel sesto e ultimo episodio della prima stagione e penso che questa idea sia stata ottima perché per esempio a me ha creato una curiosità incredibile e niente che altro dirvi io sono stregata da questa nuova serie anime che è stata appunto portata su netflix grazie a dei fumetti perché esistono appunto i fumetti in filippino di trese e cosa che io non sapevo non credo che li recupererò anche perché esiste mi pare disponibili solo il primo fumetto ed è in inglese quindi non credo che andrò a recuperare i fumetti però sono assolutamente certa che continuerò a gustarmi tutte le stagioni che saranno disponibili di trese detective delle tenebre perché me ne sono innamorata e ora non vedo l'ora di scoprire che cosa succederà dopo perché appunto il finale ci lascia abbastanza basiti e ci lancia anche tramite un demone che appunto fa la sua comparsa negli ultimi nell'ultimo minuto dell'ultima puntata e che avrà sicuramente un conto in sospeso con la nostra trese e quindi vi ribadisco provate a vedere anche solo un episodio sono sicura che chi ha i miei stessi gusti se ne innamorerà e come me finirà per vedersi tutti gli episodi in una sola giornata bene amici il video termina qui se vi è piaciuto lasciate un pollicino in su e iscrivetevi al canale per rimanere informati su ogni mio nuovo video spero di esservi stata utile e che questo contenuto vi possa appunto interessare vi mando un bacione vi auguro buone letture e buone visioni ciao amici grazie a tutti